Siamo qui a Granaretto nell'area dove speriamo di sorgere la piscina comunale un progetto a cui avevamo creduto e crediamo tantissimo e che avevamo fatto finanziare con i fondi del PNRR e in parte con fondi del comune di Fiumicino a maggio avevamo fatto la posa della prima pietra con la consegna, la firma del contratto con la ditta giudicataria che era avvenuta a marzo quindi un progetto che aveva delle scadenze che erano state contestate perché ci si diceva che era una butade elettorale ora quello che appare più strano è che quelle scadenze prevedevano entro l'estate del 2023 doveva essere consegnato il progetto esecutivo e entro l'autunno del 2023 dovevano iniziare i lavori siamo a febbraio del 2024 e i lavori non accennano ad iniziare quindi noi ci chiediamo e chiediamo a che punto sono questi lavori speriamo e crediamo che non dobbiamo perdere questa opportunità che non vada persa questa opportunità e per questo chiediamo all'amministrazione di dare risposte che al momento i cittadini ci chiedono perché nessuno le dà ufficialmente speriamo casomai che scaturisca da questa appunto esternazione una risposta con dei tempi certi come le avevamo dati che possa dare una risposta importantissima al nord della nostra città grazie a tutti